Benvenuti le armi da fuoco all'interno dei campus universitari in Texas. La legge voluta dal governatore repubblicano Greg Abbott entra simbolicamente in vigore proprio nel cinquantesimo anniversario della strage della University of Texas in cui morirono 17 persone. Nelle intenzioni del legislatore la misura dovrebbe infatti favorire l'autodifesa nelle università.